Nei giorni scorsi, all'EPT di Salerno, si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale, tra i diversi argomenti trattati, si è parlato anche di uno degli eventi più caratteristici del nostro territorio, alla tavola della Principessa Costanza, rievocazione storica che si terrà nel Comune di Teggiano a partire da questa sera fino al 13 agosto e che quest'anno giunge alla sua ventitresima edizione. Durante la conferenza stampa, l'assessore al turismo della Regione Campania, Corrado Matera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'evento. Io penso che la tavola della Principessa Costanza oggi rappresenta davvero l'identità di Teggiano, cioè il tegianese si riconosce, è vero sindaco, in questa iniziativa. Per cui, insomma, certamente, sempre con grande piacere e con grande emozione vivo questo momento, perché ho sempre, da sempre partecipato, è un evento importante che è stato sempre sostenuto dall'istituzione e continua ad essere sostenuto perché è un grande evento di grande rilevanza. E quella piccola finestra che era di Teggiano oggi è diventata una grande rilevanza. Un grande orizzonte. Per cui questo penso che sia sicuramente il dato più importante.